Crescono nell'ultimo anno le imprese della città metropolitana di Torino, oltre 220.000, numeri che riportano al 2016, un dato agevolato dal record minimo di cessazioni. Nell'ultimo anno sono oltre 10.000 le attività chiuse, circa 1.000 in meno rispetto al 2020. Oltre 14.000 le nuove imprese per un saldo positivo che supera i 3.000, dati da leggere con estrema attenzione per le associazioni di settore. Secondo Maria Luisa Coppa di Ascom Confcommercio, il calo delle cessazioni è legato ad una stagnazione complessiva con aziende che attendono l'evoluzione delle politiche legate alla gestione della pandemia. Una lettura rilanciata anche da Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino. Ci sono poche cessazioni e questo indica un clima di attesa, l'incertezza del futuro e anche il prendere tempo per prendere decisioni importanti e anche forse l'attesa per sussidi da parte del governo. Secondo i dati della Camera di Commercio, nella città metropolitana a trainare la curva verso l'alto è il settore delle costruzioni, con un più 3,4%, un aumento frutto delle possibilità date dal bonus edilizia. In crescita anche il settore dei servizi alla persona e quello del commercio, con il boom dell'e-commerce che fa da contrattare a un cao del commercio all'ingrosso e al dettaglio. Male il turismo ed il settore della somministrazione. continua la contrazione dei bar, inarrestabile dal 2012, calati nell'ultimo anno di 179 unità a 5.930.